Si è svolta oggi la sesta edizione della Cold Darby 40 Mile Ranger Challenge, una camminata di 40 miglia, pari a 65 km, con partenza da Peschiera e arrivo a Torbole in memoria del colonnello Darby, fondatore dei Ranger americani. Darby fu ucciso a Torbole il 30 aprile 1945 dopo aver condotto la decima divisione di montagna dagli appennini dell'Italia centrale fino sul lago di Garda. Quest'anno, in occasione del settantesimo anniversario, hanno partecipato alla marcia anche alcuni paracadutisti della base americana di Vicenza e altri della base americana di Grafenwoer in Germania e alcuni membri della base dell'aviazione americana di Aviano, per un totale di circa 60 persone. La partenza è stata alle 6 di questa mattina a Peschiera del Garda. Arrivati a Torbole, i partecipanti si sono ritrovati al monumento del colonnello Darby per un ultimo gesto di rispetto. Alle 18 è poi stata scoperta una targa presso l'hotel Geier di Torbole, luogo esatto in cui il colonnello Darby fu colpito e ucciso da un proiettile lanciato dai tedeschi. Subito dopo una rappresentanza è partita con un motoscafo per raggiungere la galleria della morte e deporre dei fiori per ricordare i caduti di quei giorni. Cos'è successo qui sull'Alto Garda alla fine di aprile del 1945? L'esercito degli Stati Uniti e gli alleati, insomma, dopo aver superato il Po, erano arrivati in fretta a Verona, in particolare la decima divisione della montagna, che è quelli che sono arrivati a Torbole. Han raggiunto rapidamente Navene, perché i tedeschi erano in ritirato, ormai non avevano più la possibilità di bloccare, o di rallentare, non di bloccare, di rallentare significativamente questa avanzata, e si sono attestati i tedeschi in alcuni bunker della Blaue Linea, qui dell'Alto Garda. Abbiamo trovato più di 60 bunker di quell'epoca lì. Sono arrivati, il fatto più saliente, più drammatico, tragico, sanguinoso, è successo a Corno de Bo, la seconda galleria scendendo da Torbole verso Navene. Lì, il 27, erano saltati in aria una squadra di tedeschi, perché dovevano far saltare la galleria, invece accidentalmente esplosa, le cariche sono esplose prima e sono morti anch'essi, travolti dalle schegge della volta che ha ceduto, insomma. Poi, il giorno dopo, sono arrivati quelli della decima divisione della montagna, sono entrati nella galleria di Calcarole e da lì hanno avuto molte difficoltà ad avanzare perché nella galleria di Corno de Bo, nel bunker della galleria di Corno de Bo si erano attestati 6-7, una squadra di tedeschi che battevano all'uscita della galleria di Calcarole, dove c'erano gli americani, con una mitragliatrice potente. Insomma, alla fin dei conti, sono riusciti gli americani a prevalere, ad avanzare e ad affacciarsi all'imbocco del bunker. Qui hanno invitato ad arrendersi, si sono parlati avanti e indietro i tedeschi e poi pensare con chi è stato d'animo, perché erano giovani, come quelli della decima divisione della montagna, 17, 18, 19 anni. Il fatto sta che andava troppo per le lunghe, allora è arrivato l'ordine da dietro e con il lanciafiamo li hanno sterminati. Poi dopo è successo che, libera e sgombra la galleria, quelli della decima divisione della montagna si sono affacciati all'imbocco settentrionale, quello che si vede qui, per vedere verso riva come darsi il cambio, come fare, come organizzare il successivo balzo. Cosa è successo? Che un colpo da 88 mm tedesco, sparato dal Monte Brione, ha centrato l'imbocco della galleria, è entrato in galleria e ha fatto 8 morti e 40 feriti, perché il colpo è stato enfatizzato anche dalle schegge di pietre che si sono staccate ulteriormente dalla galleria. Questo è il fondamentale. Poi dopo sono avanzati, hanno combattuto contro i carri armati qui in piazza di Torbole. Hanno raggiunto Torbole con gli anfibi, per rifornire gli uomini che erano arrivati. Perché? I camion non potevano arrivare perché la strada era stata interrotta tra la prima e la seconda galleria, quelle da Venendo, da Navene, quelle da sud. Quindi hanno dovuto aggirare con gli anfibi, sono risaliti a Canole, al porticiolo di Canole e poi sono arrivati a Tempesta, Calcarole e Corno di Bò. E così il giorno dopo, dopo 30 ore di fila di combattimento dell'86esimo reggimento, sono riusciti ad avere ragione. I tedeschi si sono ritirati, hanno occupato stabilmente Torbole verso l'una di notte e Nago verso le 11 del mattino dopo.